Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio parlare del primo libro portato in Italia da Alan Eredizioni, che ringrazio di cuore per questa copia e soprattutto li ringrazio di cuore per finalmente, finalmente, aver portato in Italia, tradotti nella nostra lingua, i libri della Black Library, che sono la cosa più bella in assoluto, secondo me, di tutto il panorama della GV e oggi vi vado a presentare Indomitus, non potevano fare altrimenti come primo libro portato in Italia perché, se vi ricordate, vi ho portato anche la nuova edizione di Warhammer 40.000 sul canale l'estate scorsa dove appunto il set base era quello di Indomitus, che è la nuova crociata che porta avanti i robot Gilliman contro gli infedeli e sapete quella spaccatura nel warp che c'è stata, che ha diviso praticamente l'impero in due parti da una parte l'impero Nihilus e da una parte l'impero, quello normale di sempre, di tutti quanti i sistemi conosciuti e della galassia governata appunto dall'Imperium, in questo primo romanzo di Gav Thorpe che è famosissimo per scrivere romanzi appunto ambientati nella saga di Warhammer 40.000 e non solo, e per collaborare ormai da una mezza vita con la Games Workshop e in particolar modo con la Black Library ve ne parlo a breve, dopo la sigla Indomitus, libro della Black Library di Gav Thorpe, in questa edizione italiana a cura di Alanere Edizioni che è una novella casa editrice che portano in Italia romanzi di Warhammer al momento si stanno occupando di Warhammer 40.000, questo è il loro primo, Indomitus e il prossimo che uscirà, che i preordi dovrebbero partire a breve quando vedete questo video sarà quello di un'altra saga bellissima che non vedevo l'ora di leggere che qualcosa ho già letto anche direttamente in inglese perché questo materiale non si trovava che sono gli spettri di Gaunt che era una cosa che io aspettavo veramente da morire, gli ho consigliato anche magari di dare un occhio alla tredicesima legione penale del colonnello Schaeffer, che è un'altra saga dell'Astra Militarium che io veramente adoro e in questo romanzo si va a parlare ovviamente della saga della crociata Indomitus portata avanti da Robot Gilliman, che è il primarca degli Ultramarine, contro gli Infedeli e soprattutto in questa nuova avanzata, in questa spaccatura che c'è stata una specie di bonaccia, mettiamola così, parlando sempre di venti a navigazione perché poi navigare il warp sempre di quello si tratta nel warp, nell'Immaterium, che ha diviso, frammentato l'impero in due parti e quindi c'è questa crociata per andare a capire cosa è successo, riunire due imperi ma soprattutto per andare a combattere i malvagi e gli eretici che in questo caso sono, in questo romanzo, come vedete nella copertina, i Necron i Necron, a livello di ambientazione di Warhammer, sono la razza, o una delle razze ma se non erro, la razza più antica di tutte e sono stati da tanti, tanti, tanti millenni i dominatori di varie galassie i dominatori dell'universo e hanno eretto praticamente queste città-tombe nascoste da cui ora piano piano si stanno risvegliando e sono molto belli come ambientazione perché ricordano un po' da vicino se vogliamo Terminator come idea iniziale ma secondo me solo come fattezze fisiche perché poi molto più come cultura, assimilazione e cose del genere ricordano un pochino di più i Borg di Star Trek o dall'altra parte i Siloni di Battlestar Galactica quindi comunque la GV ha fatto, secondo me, un lavoro bellissimo e d'accordo ancora una volta con il mio amico Pippo l'ambientazione più bella spaziale tolto Alien Alien per me è sempre il primo posto è Warhammer 40.000 perché la GV nel corso degli anni ha fatto un lavoro di aggiunta mano a mano inserendo nuove fazioni, nuovo materiale, nuovi eroi e anche nuove leggende che tornano alla ribalta come appunto il primarca degli Ultramarine, Gilliman ma hanno aggiunto roba nella maniera sistematica e corretta perché non hanno distrutto tutto quello che avevano creato o l'hanno rovinato anzi l'hanno valorizzato come ad esempio in questo romanzo vengono citati per una delle prime volte gli Intercessor i Marine Primaris che sono quelli con l'armatura Mark X ovviamente lavorati sempre dall'Adeptus Mechanicus e dal seme di Gilliman direttamente sul pianeta Marte che è il pianeta fonderia e fabbrica dell'Adeptus Mechanicus e vengono prodotte queste nuove armature e questi Marine ancora più potenziati quindi rispetto agli Space Marine del passato ad esempio in Uriel Ventris questi sono molto 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 più forti e arrivano quasi ad un'altezza di 2 metri e mezzo 2 metri e 80 sono veramente colossali e in questo romanzo si parla di una nave in particolare la Vendetta di Itraca che è una nave da avanscoperta e da vanguardia dell'Astra Militarium dove a bordo ci sono anche ovviamente un distaccamento del capitolo degli Ultramarine ed è molto bello come romanzo perché sono una missione di pattugliamento per fare davanti a scoperta al robot Gilliman nella flotta più grande andare a distruggere gli eretici fino a quando non ricevono un segnale di soccorso che è bello ricorda un po' Alien se vogliamo decidono di dirigere verso quel segnale e da lì si apre la storia quindi diciamo dopo le prime 100 pagine si apre la storia non ve lo voglio spoilerare parlando del romanzo tradotto bene ogni tanto ho trovato qualche piccolo errore di battitura è una cavolata ci può stare non ti rovina la lettura però è tradotto veramente bene sono stati usati i termini giusti secondo me il libro è veramente anche piacevole al contatto alla lettura è un tipo di carta non troppo spessa anche come copertina e tutto quanto quindi si tiene anche bene in mano si sfoglia bene e soprattutto il disegno davanti la copertina la colorazione mi garba veramente da morire quindi alla nera edizione ha fatto un bel lavoro se volete anche prenderlo come anche bagaglio culturale perché vi garba la notazione di Warhammer 40.000 qui viene raccontato tutto vi raccontano cos'è l'Immaterium cos'è l'Astronomican il faro imperiale la luce dell'imperatore chi sono i navigator chi sono gli psionici a bordo che sono quelli che mandano messaggi lontani anche volte interi sistemi solari e galassie laddove la tecnologia non potrebbe arrivare e vi spiegano anche molto bene da vicino anche con termini tecnici che ci stanno anche bene e di facile e di chiara lettura come si muovono i Necron quindi comunque ci presentano le due fazioni principali del nuovo set di base di Warhammer 40.000 che sono da una parte gli Ultramarine e dall'altra parte i Necron spiegandoceli perfettamente quindi per me oltre che un romanzo bellissimo è anche un manuale d'ambientazione perfetto ve lo consiglio assolutamente come vedete nota in sovrimpressione vi lascio il mio referral link per acquistarlo direttamente con uno sconto dal sito di Alaner Edizioni che ancora una volta ringrazio per questa copia qui e a breve tempo di finirle tutto quanto vi porterò anche gli spettri di Gaunt che non vedo l'ora di leggervelo perché è un altro capitolo spettacolare sono veramente felicissimo di questa impresa perché è un'impresa consentitemelo editoriale perché i libri della Black Library non si trovano in italiano e io purtroppo purtroppo e anche con piacere me ne sono letti 20 tutta la saga della legione penale più tutta la saga di Uriel Ventris più altra roba me li sono letti e anche tra l'altro i primi due della saga di Gaunt me li sono letti in inglese col Kindle comprati e acquistati perché in italiano non si trovavano vedere che finalmente veramente un editore italiano li riporta dopo quasi 15-20 anni andava ancora a scuola quando li pubblicavano in italiano per me è un sogno e veramente ve lo dico di cuore Dio vi benedica perché è un'impresa grande titanica ma era quello che ci voleva e vi ringrazio davvero da canito lettore della saga di Warhammer spero porterete anche qualcosa magari del fantasy ma di sicuro dell'Age of Sigmar non vedevo l'ora quindi ancora una volta grazie ad Alaner Edizioni vi lascio tutti i loro link in descrizione sempre anche in sovrimpressione in descrizione il mio codice per comprarlo direttamente dal sito scontato e grazie per quello che state facendo ciao ragazzi alla prossima